I not like rock music. No, I don't like rock music. Ciao, sono Monica di ImparaL'IngleseConMonica.com e nella breve lezione di oggi ti consegnerò una pillola grammaticale che aiuterà a rendere la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga migliore. Per rendere la frase italiana non mi piace la musica rock e quindi stiamo parlando al presente, ricordati, e stiamo dando una negazione, dobbiamo utilizzare in inglese l'ausiliare nella forma negativa don't, che vale per tutte le persone ad esclusione della terza persona singolare per le quali utilizzeremo doesn't. Pertanto per rendere la frase inglese non mi piace la musica rock diremo I, don't, che rende il nostro non quando parliamo al presente, verbo like, quindi verbo nella forma base infinito senza il tu, rock music, I don't like rock music, non mi piace la musica rock. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova pillola di grammatica.